Barlette e le fughe di gas, un incubo che continua un'altra mattina cominciata all'insegna della paura in città. Siamo in via di Miccoli nel quartiere Settefrati, qui questa mattina poco dopo le 8 un incidente stradale che ha coinvolto due automobili tra via di Miccoli e via Solferino ha causato la rottura di una tubatura di gas adiacente a un portone di una palazzina. A romperlo una delle due vetture che dopo l'impatto è finita sul marciapiedi e si è schiantata contro una condotta del gas nei pressi del Civico 150 causandone la fuga e quindi l'emanazione nell'aria di un forte odore che ha allarmato i residenti del quartiere e passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, la polizia di stato e due ambulanze che hanno prestato soccorso e trasportato all'ospedale di Miccoli di Barletta due persone, la donna che era alla guida della Iaris e un passante. Per entrambi le condizioni non appaiono gravi. Intanto a lavoro gli operai dell'Italgas per mettere in sicurezza la zona e verificare attraverso degli scavi nel manto stradale se la perdita di gas possa essere più estesa del previsto e si abbia provocato altri danni. Inevitabili i disagi venuti sia a creare in zona sia in fatto di viabilità che per l'assenza di gas nelle case del palazzo interessato dallo spiacevole incidente. Non è la prima volta che a Barletta si verificano fughe pericolose di gas che allarmano i cittadini ormai terrorizzati dopo quel 26 aprile del 2015, quando un'esplosione causò la morte di un tecnico dell'Italgas, Nicola Del Vecchio, di 56 anni, giunto sul posto per capire cosa fosse accaduto ed il ferimento di tre persone. Era in via Milano. Da quel giorno a distanza di un mese l'uno dall'altro altri tre gli episodi verificatisi. Il 12 giugno sempre in via Milano, dove i cittadini segnalarono una preoccupante fuga che fortunatamente si rivelò solo un falso allarme. Quindi il terzo caso a luglio scorso. Protagonisti in questo caso gli inquilini di due palazzine di via San Samuele nei pressi della litoragna Pietromenea che furono fatti evacuare per un'altra fuga. La causa era debitabile allo stato di usura di una tubatura di superficie.